Eccoci di nuovo insieme benvenuti o bentornati sul canale oggi parleremo ancora una volta di matite colorate ho visto che i video pubblicati in precedenza sul canale quelli che riguardano le matite colorate sono andati molto bene sono piaciuti molto e allora ho pensato di fare un ulteriore approfondimento di queste color che di cui vi ho parlato a lungo in un video dedicato anche perché sono 300 matite e quindi ci vuole un po' di tempo per raccontarle su queste ho fatto ben due video come dicevo uno che parla solo di loro e un altro mettendo a confronto le color metalliche che si trovano nella scatola con le derwent metalliche e di questi vi metterò comunque in descrizione link oggi invece vorrei vedere con voi le fluorescenti quindi tutte quelle matite che vengono utilizzate per avere effetti flu diciamo così qui ce ne sono ben 12 questa è la tabella colore se qualcuno ha già visto il video delle 300 battite se la ricorderà eccole qui tutte 300 e queste invece sono le fluorescenti abbiamo ben 12 tonalità di queste matite e quello che vorrei fare oggi è metterle a confronto con le blasonate faber castell che in questo caso in questo caso solo quattro colori ma non non ce ne sono molti credo che ci sia un celeste ancora ma non hanno sicuramente una vasta gamma come questi e questo potrebbe essere già un plus a secondo ovviamente dell'utilizzo che se ne vuole fare ci tengo a dirvi che il video non è sponsorizzato da nessuno ed è semplicemente il mio parere di utilizzatrice queste sono le 12 matite fluorescenti di cui vi ho fatto vedere nella tabella colore adesso andiamo a prendere le quattro che i quattro colori che ci serviranno per metterli a confronto con faber castell e poi le vedremo all'opera quindi prendiamo un arancione abbiamo un giallo un verde e poi fucsia ok perfetto allora proviamo a vederli all'opera usiamo la solita carta fabriano mixed media che è molto versatile io la uso spesso per tante tecniche e funziona molto bene secondo me quindi mettiamo sopra faber castell spero che si veda bene e mettiamo sotto calor ok allora proviamo a vederle all'opera eccoci arrivati cosa ve ne pare allora cosa vi posso dire qui veramente varrebbe la pena poterle provare fisicamente perché dico questo perché la stesura è veramente diversa nelle faber castell è molto più dura perché il legante che compone la mina è un po' oleoso e lo si vede perché comunque la campitura è abbastanza omogenea ma non tanto oleoso mentre nelle calor il legante è veramente tanto oleoso tant'è che è molto più veloce anche ricoprire la parte di carta che abbiamo individuato come diciamo rettangolo da mostrare queste sono veramente oleose queste molto meno e l'effetto comunque che fanno poi è molto soggettivo a me sinceramente piacciono di più le calor anche perché ripeto è veramente bello nella stesura la mano scorre velocemente e riescono a fare campiture anche grandi in poco tempo tutto sommato con le faber castell c'è veramente da insistere tanto perché come dicevo prima essendoci poco olio e più cera probabilmente sono un po' più rigide cosa hanno di buono però le faber castell intanto l'involucro di legno entrambe sono legno come si può vedere queste hanno questa grip che è molto utile perché permette proprio di non far scivolare le dita sulla matita ci sono questi tondini che sembrano gommati in realtà non è gomma credo forse resina non lo so però effettivamente rimangono salde in mano e quindi queste sono anche ergonomicamente migliori diciamo così c'è da dire però che questa punta triangolare che può essere anche carina di fatto comporta la necessità di un temperino apposta con un foro che sia almeno di 10 mm perché altrimenti non si riesce a temperarle a meno che non si proceda ovviamente con il cutter a mano allora vabbè non c'è problema cos'altro si può dire intanto come abbiamo già visto nel caso delle color abbiamo ben 12 tonalità e quindi anche lì poi come abbiamo visto sono 12 tonalità e anche lì chiaramente poi dipende un po' dall'uso che se ne fa io le fluorescenti le uso tantissimo per i fumetti quando devo fare non so le saette quando devo fare qualche capigliatura un po' colorata un po' flu oppure un altro uso molto massiccio che faccio è per sottolineare i libri ecco qui c'è un esempio dove uso appunto queste matite fluorescenti perché mi permettono subito di andare ad individuare il tema che mi ha colpito particolarmente poi vabbè la descrizione quindi poi vabbè ho il mio metodo diciamo anche di sottolineatura però in questo caso devo dire queste matite fluorescenti io le trovo veramente ottimi senza di queste non potrei leggere libri ma questo è un'altra storia è una storia personale che dire queste matite fluorescenti come tutti i colori flu e i metallici sapete mi piacciono tantissimo secondo me hanno anche dei validi utilizzi sta un po' a voi capire quale delle due vi può interessare quello che c'è da dire è che nel caso delle color sono già dentro il kit delle 300 matite quindi uno se è appassionato di matite colorate acquista il kit completo e poi si trova le metalliche le fluorescenti le matite colorate normali e via così nel caso della Faber-Castell vanno ovviamente comprate a parte i costi sono sicuramente come al solito molto diversi le calories sono se prendo solo le fluorescenti per dire come valore non è che posso comparare il costo di tutto il kit con le 4 della Faber-Castell il costo della calories è molto inferiore a tutte queste marche super note super professionali super blasonate che hanno dei costi sicuramente quasi doppio a volte se non di più io vi ringrazio per essere stati con me fino adesso e fatemi sapere quale delle due dei due kit vi piace di più se vi è piaciuto il video un pollice alzato così contribuite a sostenermi e un'iscrizione al canale se non l'avete già fatta a presto